cari amici buona giornata cominciamo subito con una notizia negativa vedete sono tornate le mini lepri porca di una miseria anche cavolo nero mi hanno mangiato e questi altri due broccoli non è qua e un altro qua mannaggia ripossino ma nonostante il lavoro fatto quest'autunno che vi avevo documentato queste queste copertura dei cassoni ho comprato questo rotolo di 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 rete antigrandine che è robusta mi hanno strappato adesso qui ho chiuso guardate qui il buco adesso ho chiuso buco qua e qua però con le zampe loro hanno i denti perché sono tipo coniglio ti strappano tutto poi hanno le unghiette e ti strappano questa rete e poi vanno dentro e si mangiano quello che vogliono loro sono più ghiotte da cosa ho capito coi coi broccoli e coi cavolfiori ma poi non credevo mai più che mi mangiassero anche le guardate che mi mangiassero anche il il cavolo nero perché qui non è che è una lumaca che mi ha mangiato solo il cavolo ma è vedete mangiano anche tutta la corona staccano proprio il pezzo con con i denti così come qua vedete questo non è un animaletto non è una lumachina domani non ci sono ci sono ancora tutte queste verte stesso non so cosa fare adesso toglieremo perché devo devo togliere ormai anzi se gloria voglia io tengo io gloria lei lo toglie e poi cosa riusciamo a recuperare se sradica quelle li mangiate ecco tira via è peccato era era molto bello grosso guarda che roba queste maledette io voglio bene noi vogliamo bene gli animali però mannaggia andassero mangiare cose da un'altra parte mettere nella cesta rossa lo buttare per terra va bene allo stesso e qui adesso voglio mettere qualcosa a questo punto ho fatto tutto il lavoro prendi togliere sì il cavolo qualche foglia riusciamo a recuperare avevo fatto tutto il lavoro fino a fine primavera l'avevo anche documentato comprato il legno ho comprato la rete recenti quello lì no perché non l'hanno ancora mangiato ma si aspetti che ce lo mangi no hai ragione anche tu e poi in realtà volevo fargli vedere il buco tengo si tieni scusate volevo solo fargli vedere il buco ecco qua vedete perché questa cosa chiusa adesso ve lo faccio vedere loro salgono qua sopra tic 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 e con le loro zampettine guardate qualche bello squarcio che hanno fatto vanno dentro immagino quello che vogliono adesso non so come chiudono magari adesso promette di sto sto cosa no perché non mi mangiano tutto perché tra l'altro adesso come faccio tolgo in queste verde che però sono piccole posso toglierle che senso a togliere queste verde però fa farmene mangiare tutte mi dispiace anche gloria togliamo anche questi due broccoli qua e tanto non sono mangiati eccole qui mi dispiace perché non so proprio mi cioè sarò costretto a non mettere più queste questi questi queste articole perché se loro si anche quello di forse adesso insomma magari adesso mettiamo magari mettiamo il non so metterei dei piselli perché tanto i piselli poi nascono a primavera primavera hanno più da mangiare magari le mini lepre non vengono ma guarda solo che disperazione che dispetto poi tra l'altro io ero sicuro ma ho fatto questo lavoro sono sono tranquillo e invece sono tranquillo un par di ciuffoli queste qui non le hanno ancora attaccate perché ha mangiato prima le altre vabbè questi sono tre funghi che erano erano qui ma non li conosco che non sono un esperto anche se li coltivo loro preferito toglierli e lasciarli lì e i porri non li piacciono e non li toccano così come i cardi che non li piacciono ma questi qui anche però non sono ancora venuti per ora a mangiare qui vediamo in vera che me ne lasciano qualcuno volevo far vedere già che sono qua che sono già nati i primi l'aglio ecco qua 1 2 3 4 4 5 quello qua non l'avevo visto questo qui è la lione quello che ho messo in mezzo ricorderete e la lione di quello senese di valdichiana questo invece ai lati invece l'aglio il classico padovano bianco è il piemontese io lo chiamo così quello che c'è dalle nostre parti questo non lo mangiano per fortuna mangiano solo i cavoli cavoli cavolfiori broccoli e poi adesso ho visto il cavolo nero che pensavo proprio lo lasciassero stare perché l'anno scorso non l'avevano mangiato ma forse perché non l'avevo messo molto semplice va bene con questa novità non molto positiva vi lascio e buona giornata ciao ciao vi faccio ancora vedere i cardi sì che non hanno nulla che vedere con quelli bellissimi di vittorio e gigantesche questo qua è lo spadone tipo il cardo gobbo di inizio quello che si usa per il cardo gobbo di inizio questo invece classico frastagliato sono molto più piccoli ma fra una quindicina di giorni prima che leggerli li toglierò e li mangerò ciao ciao